Oggi è l'ultimo giorno, come è la tua condizione dopo il fallo? Credo che il crash si prende più energia di quello che avevo pensato L'esterno stavo davvero strutturando nel comando del comando, non avevo energia e l'ultimo che i piedi sono tornati alla fine Il dormito non è stato il migliore le ultime nuove nuove, ma mi sento molto meglio oggi e la finale mi potrebbe aiutare Credo che tutto dipende su come si sarà riuscita Se è come l'esterno, nulla cosa succederà nel gruppo di GCC Ma se il gruppo dei favoriti, se la squadra ha una possibilità per la vincenza, sicuramente sarà una grande battaglia per la ultima clima Ma ancora, è ancora più vicino alla fine Credo che sia un po' imprenditabile Ma è l'ultimo giorno, quindi probabilmente vedremo alcuni attaghi Ma la riuscita in Italia e anche altri austriani incredibile energia e motivazione Ah, sicuramente, è super bello Ora siamo più vicino all'Austria Motivazione è molto alta, è sempre stato Grazie a tutti E anche per la riuscita 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 Grazie 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 Grazie